Patrick Facchini, primo al Dolomites Vertical Kilometer, una bella soddisfazione, te lo aspettavi di andare così forte? Ma sinceramente non me lo aspettavo perché era tre settimane che non gareggiavo, quindi non sapevo qual era la mia condizione, anche se a casa riesco sempre a arrivare pronta agli appuntamenti. L'anno scorso l'ho fatto la prima volta, è un Vertical che secondo me si mi sedice molto, molto duro, non c'è tanto da correre quindi bisogna spingere tanto. Bella soddisfazione, c'erano qua atleti di altissimo livello che fanno per la maggior parte questo e sono contento di essere arrivato davanti. Qual è stato il momento in cui ti sei staccato e hai capito che era fatta? Ma diciamo che Rémy Bonnet ha fatto il ritmo quasi fino a metà, vedevo che comunque riuscivo a respirare bene, non avevo difficoltà prima della metà, prima del rifornimento, dello striscione, ho deciso di provare ad attaccare, ho dato un attacco secco, ho deciso, senza mai voltarmi, ho visto che ho preso subito 10, 20, 30 metri e sono arrivato con 30 secondi di vantaggio. Rémy Bonnet è il secondo posto a Vertical Dolomites, sei felice per il tuo final risultato? Sì, sono molto felice perché ho tornato da un'injurio dal primo anno del anno e è la prima volta che mi sento ok. Per me è un buon warm-up per il prossimo Sky Race e vedremo come è, ma credo che sono in un'altra forma in realtà e vedremo il prossimo. Sì, sperai di venire durante la russa? Sì, nel medio del russa ero la prima volta e Patrick ha avuto un'injurio davvero forte e era impossibile da seguire. Credo che è perché è un'injurio ciclista che conosceva di spettare una piccola secco, e sì, è stato davvero forte e credo che è meglio di me oggi. Neičkura, tu hai il terzo posto di oggi, mi racconti la tua russa. È stato difficile come sempre. Mi sento bene, quindi ho fatto il mio migliore, ma è sempre difficile da vissere, quindi sono molto felice con il terzo posto di oggi. Patrick e Rémy sono sempre più forti. Sei soddisfatto con il tuo tempo e la vostra posizione? Con la posizione ho fatto il mio migliore, quindi non potrei essere meglio, quindi sono soddisfatto con il tempo. L'ultimo anno è stato più veloce, ma anche da l'ultimo anno è stato molto caldo, quindi è stato molto meglio per un buon tempo. quindi sono felice con il terzo posto e il tempo. Axel Molaret, terzo posto qui nel Canada. Ti aspetti a vincere oggi, prima della russa? È stato il mio obiettivo, ero qui per questo. Ma ho visto che è difficile da vincere, e molto buona ragazza e molto buona ragazza, quindi è interessante per questo. Sono molto felice con questa vittoria, perché non è una vincere in tutto, ma sono molto felice con il tempo, perché è un buon tempo, non è sicura di vincere in tutto, è una buona vittoria. E ti aspetti a vincere il record? Non. Sono molto felice con questo, ma non posso aspettare queste cose, perché molte buone ragazze sono qui alcune volte, quindi è stato un buon record. Come hai trovato questa vittoria? Molto difficile? Mi piace questa vittoria, perché ha avuto molte parti diverse, sono molto felice, e è molto buono per me. Mi piace davvero questo. Susanna Sapunki, il secondo giro in Canadia. Sei felice per questo risultato? Sì, ovviamente, perché ho avuto cross-country, quindi questo è un buon trening per me, il secondo giro, quindi sono molto felice. Hai spero di vincere questa gara durante la gara? Nel prossimo giro, penso che ho avuto di correre in un'anno molto più. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Non sono sicuro se sono in buona forma, io ero in Val Gardena questa settimana e ho trainato, ho fatto molto training e quindi non ho saputo se funziona oggi. Hai sofferto il sole? Non, è stato in buona condizione oggi, perché i anni prima era molto caldo e oggi è stato in buona condizione.